Pubblicato online sul sito internet del Comune di Caltanissetta l'avviso di selezione per il conferimento di 25 incarichi di rilevatore e addetti back office dell'accensimento permanente della popolazione 2018, di cui 18 titolari e 7 supplenti. L'attività affidata al rilevatore consisterà nella raccolta di informazioni presso le famiglie assegnate nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Istat e dall'Ufficio Comunale di Censimento. Per essere ammessi alla selezione, gli interessati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni residenti a Caltanissetta o essere dipendenti del Comune di Caltanissetta. Tra i requisiti richiesti diploma di scuola superiore di secondo grado, essere in possesso di buone conoscenze informatiche, avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche e effettuazione di interviste proposte dall'Istat. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12 di lunedì 16 luglio al Comune di Caltanissetta, Ufficio Protocollo Generale. Per approfondimenti è possibile collegarsi al sito internet dell'ente. E' la domanda di Caltanissetta E' la domanda di Caltanissetta